Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di politica dopo Musumeci, Cateno De Luca ne ha pure per Gianfranco Micicchè, il quale ha parlato di una candidatura al femminile in vista delle prossime elezioni regionali. Allora sentiamo nelle parole di Cateno De Luca in riferimento proprio a Gianfranco Micicchè. Ora qual è il cambio di strategia? È molto semplice. Lui non vuole fare più il Presidente del Parlamento siciliano, lui ora vuole fare l'assessore ai beni culturali. Ve lo garantisco, il buon Micicchè ora vuole fare il Presidente, l'assessore ai beni culturali. Si è fissato questa cosa, perché tutta l'esperienza con la Monte Rosso per quanto riguarda la fondazione che hanno là a Palazzo di Normanno, non mi ricordo manco come cavolo si chiama, l'ha portata ad innamorarsi della cultura. Quindi ora è il quadro quale diventa? Fuori Musumeci, Patrizia Monterosso, Presidente della Regione, lui assessore ai beni culturali e eventualmente se io entro in questo gioco mi fanno fare il Presidente del Parlamento siciliano. Pensate un po', mi fanno fare il Presidente del Parlamento siciliano, oppure se non voglio fare il Presidente del Parlamento siciliano mi fanno fare il Vice Presidente della Regione. Questo è lo scacchiere conclusivo su cui già mi hanno invitato domani a fare una riunione. Lui si fida e ciecamente di Patrizia Monterosso. Quindi questa è la prima notizia. La seconda notizia è che lui in questo scacchiere vuol fare l'assessore ai beni culturali. Eventualmente se poi c'è la delega alla Vicepresidenza bene, ma questa l'hanno proposta anche a me. Allora si chiude veramente in malo modo quella che è la faida della banda Bassotti politica, in una maniera vergognosa. Dicci che ora ci hai stancato però, ora ci hai veramente stancato con questo teatrino squallito. Ve ne dovete andare tutta a casa perché voi siete sciarriati con la Sicilia, per usare un tuo termine. Non è sciarriato con il Parlamento il Presidente Musumeci. Siete tutta la banda Bassotti politica sciarriata. Dalla centrodestra alla centrosinistra parliamo sempre delle prossime elezioni regionali. Con la quasi unanimità, la direzione regionale del PD siciliano, che si è riunita a Palermo, ha approvato la relazione del segretario Anthony Barbagallo, che proponeva la candidatura dell'europarlamentare Caterina Chinnici alle primarie della centrosinistra in vista delle regionali del prossimo autunno. Riconosco a Caterina Chinnici, ha detto Barbagallo, una evidente capacità inclusiva di tanti mondi che cercano una candidatura disponibile all'ascolto e che allarghi il campo. Abbiamo scelto una donna che ha spessore, conoscenza approfondita della macchina regionale, avendo ricoperto il ruolo di assessore, e una cultura giuridica che non è in discussione, essendo anche una magistrata. Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta, il segretario regionale Anthony Barbagallo, la direzione, i circoli, i militanti e tutta la comunità del PD, una comunità di idee e valori per la fiducia riposta in me. Queste invece le parole di Caterina Chinnici. Sarà lei dunque la candidata per il PD alle primarie in vista delle elezioni regionali. Ed ora lo sport, con in primo piano il futuro del calcio Catania, il Comune ha scelto Pelligra Group. Vediamo il servizio. Il sindaco, facente funzioni Roberto Bonaccorsi, d'intesa con l'assessore Sergio Parisi, coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Direzione Sport e Politiche Comunitarie, al termine di una attenta comparazione fra i cinque progetti candidati a rappresentare la città di Catania a un campionato della Lega Nazionale di Lettanti, ha ritenuto di individuare tra le candidature pervenute quella proposta dalla società rappresentata da Dante Sibilia. Il progetto del gruppo Pelligra, piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, assolvibilità economica e progetti di sviluppo, è stato ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della città di Catania in termini di obiettivi, mezzi economici e patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo. L'amministrazione comunale, si legge in una nota diramata da Palazzo degli Elefanti, ringrazia sentitamente tutte le società partecipanti e i loro proponenti per la credibilità e la sostenibilità dei progetti presentati. Ciò è la dimostrazione che la nostra città, quando si propone in maniera seria, senza roboanti annunci, con richieste sostenibili e programmi realizzabili, riesce sempre ad attrarre imprenditori altrettanto seri e progetti concreti. Ora la proposta verrà inoltrata, come prevedono le norme federali, alla FIGC che si determinerà in meglio. Cambiamo ancora argomento, adesso parliamo di mafia, ci spostiamo a Palermo, è stata confermata la confisca beni nei confronti di due esponenti di Cosa Nostra. Vediamo il servizio. Le attività di indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a Cosa Nostra svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo avevano già portato nel maggio 2018 e nel gennaio 2021 all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo di due provvedimenti di confisca di beni rispettivamente nei confronti di Epifanio Aiello per un valore complessivo di circa 530 mila euro e Marcello Puccio per 200 mila euro. Con i provvedimenti è stata dichiarata l'irrevocabilità delle confischie e l'ingente patrimonio riconducibile a Cosa Nostra è entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Aiello, inteso Fanuzzo, era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Bocalisse con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Partanna Mondello in particolare per aver messo a disposizione le società nella sua disponibilità riportando una condanna di primo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione confermata nei successivi gradi di giudizio. In particolare il provvedimento di confisca definitiva ha riguardato i seguenti beni l'intero capitale sociale con relativo complesso di beni aziendali di una società edile con sede a Palermo sette rapporti bancari e due veicoli. Anche Puccio era stato arrestato nell'operazione denominata Bocalisse con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo in particolare per essere stato un punto di riferimento per la gestione delle estorsioni e dei lavori edili riportando una condanna di primo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione aumentata in appello a 10 anni e confermata nel successivo grado di giudizio. Il provvedimento di confisca definitiva ha riguardato un'abitazione sita a Palermo e due rapporti bancari. La polizia di Barcellona Pozzo di Gotto, siamo quindi nella Messinese ha invece individuato e denunciato un ricettatore. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Un uomo è stato individuato e sottoposto a controlli dai poliziotti del distaccamento di polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto in prossimità dello svincolo di Milazzo sulla A20. A piedi nudi e privo di documenti camminava lungo la corsia di emergenza. Aveva con sé un borsello contenente un tablet, nonché la patente di guida e una carta di credito intestate a un cittadino italiano sulla cui detenzione non ha saputo fornire alcuna spiegazione. I successivi accertamenti hanno reso possibile l'identificazione dell'uomo, un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni e della legittimo proprietario di documenti tablet e borsello a cui erano stati sottratti dall'auto in sosta nei pressi di un supermercato. I poliziotti hanno pertanto sequestrato quanto rinvenuto per la successiva restituzione al legittimo proprietario ed è ferito all'autorità giudiziaria il 28enne per il reato di ricettazione. Nel Catanese invece, per la precisione a Mr. Bianco, sono stati colti in flagranza due ladri di catalizzatori. I carabinieri della tenenza di Mr. Bianco hanno arrestato in flagranza di reato due catanesi di 36 e 31 anni gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione, circa un tentativo di furto in atto. Sopraggiunti in via Appoggio del Lupo, i carabinieri hanno sorpreso il 31enne e il 36enne ancora all'opera mentre armeggiavano nel tentativo di asportare il catalizzatore da un'autovettura posteggiata sulla pubblica via. I due, costretti a interrompere la loro azione per l'arrivo dei militari, hanno lasciato gli attrezzi a terra e si sono dati alla fuga a piedi tra le abitazioni circostanti inseguiti dai carabinieri. Un altro complice, con funzioni di vedetta, è riuscito a scappare in direzione opposta ai due uomini che invece sono stati raggiunti poco dopo dai militari. Si è reso necessario l'ausilio dei vigili del fuoco perché i due, nel maldestro tentativo di sottrarsi all'arresto, hanno scavalcato un muretto precipitando in fondo a un dirupo, procurandosi lievi lesioni prontamente medicate presso il Policlinico San Marco. Sono stati rinvenuti e sequestrati due catalizzatori, due smerigliatrici e diversi attrezzi da lavoro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, nel Trapanese, i carabinieri della stazione di Marinella hanno denunciato per il reato di lesioni personali aggravate un commerciante di 52 anni sul quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in merito a una lite scaturita per futili motivi di vicinato con un Castelvetranese di 24 anni. L'uomo avrebbe colpito ripetutamente al volto il ragazzo con una spranga di ferro lo scorso 14 giugno, tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del locale Nosocomio. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Ed ora invece nel Siracusano, dove i carabinieri della stazione di Belvedere hanno eseguito un provvedimento di aggravamento pena emesso dall'autorità giudiziaria Retusea nei confronti di un pregiudicato siracusano di 32 anni agli arresti domiciliari per tentato omicidio, porto abusivo di armi da sparo, spaccio di sostanze stupefacenti ed altri reati, associandolo presso la casa circondariale Cavadonna. L'uomo era stato arrestato il mese scorso per evasione e la circostanza, sorpreso davanti a un bar, si era giustificato dicendo di essere uscito per effettuare delle visite mediche. Tale episodio ha ovviamente insospettito i militari che a distanza di poco tempo hanno accertato che la gran parte dei certificati consegnati dall'uomo in caserma erano falsi. Il 32enne infatti non si recava dal medico, ma fotocopiava precedenti certificati, cambiava la data e approfittava per curare i suoi affari personali. Ed ora invece ci spostiamo virtualmente a Licata, dove i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento hanno denunciato in concorso in stato di libertà alla procura della Repubblica di Agrigento un medico del lavoro e l'amministratore unico di una ditta edile per l'ipotesi di reato di falsità ideologica. I due infatti hanno dichiarato falsamente nella comunicazione del giudizio di doneità alla mansione di avere effettuato le visite mediche a due lavoratori e avrebbero attestato che risalivano alla data antecedente rispetto all'accesso ispettivo. Ed ora invece torniamo a Messina, dove un uomo ha violato le prescrizioni impostegli dal regime di arresti domiciliari a cui è sottoposto ed è stato pertanto arrestato nella flagranza del reato di evasione dai poliziotti delle volanti. Al personale operante ha dichiarato di essersi allontanato dal proprio domicilio perché autorizzato dall'autorità giudiziaria a comparire ad un'udienza in tribunale, ma ha deliberatamente omesso di avere invece ripetutamente avvicinato l'ex compagna presso il suo domicilio e sulla pubblica via. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che l'uomo, gravato da precedenti penali come furto aggravato, ricettazione e danneggiamento, era stato già raggiunto da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex, misura aggravata e sostituita dalla detenzione domiciliare al reiterarsi di condotte perseguibili. Torniamo invece nella Catanese, per la precisione a Gran Michele, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 23enne del posto in quanto gravemente indiziato di gestione illegale delle acque reflue. I militari hanno passato al setaccio diversi esercizi commerciali del comune di Gran Michele all'esito del controllo presso un autolavaggio hanno accertato che il titolare, un 23enne del posto, proseguiva nella gestione dell'attività pur essendo sprovvisto dell'autorizzazione che viene rilasciata dal comune. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che il titolare non aveva altresì provveduto a comunicare al comune l'inizio dell'attività. Le violazioni contestate al 23enne comporteranno il pagamento di una sanzione per l'importo complessivo di oltre 2.500 euro e oltre alla chiusura dell'attività per mancanza dei requisiti previsti. Ed ora invece parliamo di una notizia positiva che certamente ci fa piacere condividere con voi. Vi mostriamo anche questa bella foto. La foto è stata individuata infatti nel tratto antistante la banchina del Molorizzo. Siamo a Messina da alcuni dipendenti delle società di navigazione del terminal Aliscafi. Si tratta di una tartaruga marina che era in evidente difficoltà e rischiava di essere travolta dai natanti che lì ormeggiano. I poliziotti della sezione di Polizia Frontiera sono riusciti a recuperarla e metterla in salvo grazie all'aiuto della Corporazione degli ormeggiatori del porto di Messina che ha prontamente messo in acqua la barca Emanuele I. L'animale è stato quindi trasferito presso il centro recupero tartarughe marine di Branca Leone, Reggio Calabria come da indicazioni della Guardia Costiera. Gli operatori della Onlus hanno preso in cura la tartaruga un esemplare della specie protetta caretta caretta di sesso femminile di età approssimativa di 30-40 anni. Presenta una ferita alla testa forse causata dall'elica di un natante. E con questa bella notizia ci fermiamo ma ovviamente ci rivediamo più tardi sempre su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizie. Grazie. Grazie.